Sto facendo una nuova collezione di gioielli che andranno nelle gioiellerie già nei prossimi giorni, per cui ho studiato un accessorio, un bracciale che possano indossare sia uomini che donne da dare qui questa sera per la beneficenza e per questa situazione. Questa è la cosa che mi ha di più spinto in questa situazione e poi pensare a Milano, al mondo della moda, quando si fanno delle cose, che si possa aprire una finestra per parlare di queste cose è sempre un'occasione giusta. Questa sera c'è Francesco Testi, un attore che in questo momento sta emergendo alla grande, che per il 2015 sarà testimonial della linea Carlo Pignatelli Cerimonia. Cosa ti lega a questo marchio, cosa ti lega a questo uomo? Mi lega all'onore di essere stato scelto per essere il suo testimone, è la prima esperienza in questo caso, lui fa abiti da cerimonia soprattutto, anche se come potete notare dal mio look fa anche dell'altro, io in effetti vado un po' controcorrente, non seguo spesso la moda, perché sono molto sportivo. Tra l'altro ti faccio notare che lui, siccome ormai siamo amici, mi sa che porto i berrettini, me ne ha fatto fare uno, che è un pezzo unico perché non l'ha mai fatto prima, mi ha fatto fare anche questa, che per me è molto comoda. Se qualcuno li vuole far fare deve chiedere al signor Carlo Pignatelli. Glielo chiederemo.